lezione di di trucco trucco ci sta ah ecco vabbè io lo metto sempre tipo sull'anulare questo si chiama un anulare vero? si ok anulare e poi lo metto tipo sull'occhiaie quindi tipo così comunque tu sei una bella ragazza si mi sono proprio convinta però io ero come te nel senso che si cioè io mi vedevo bruttissima e ancora adesso mi vedo non bellissima però ho imparato ad apprezzarmi perché comunque quando tu inizi a prendere sicurezza in te stessa stai bene anche indipendentemente dal luogo dove tu ti trovi Mirea è stata una piacevole sorpresa è stata una bellissima persona e mi hanno fatto un'idea sbagliata di Mirea cioè mi sono limitata solo diciamo alla parte sua esteriore gli altri magari sapevano che io ero una bella ragazza ad esempio cosa che te ne renderei conto anche tu perché anche tu sei una bella ragazza e magari tendevano a buttarmi giù no? mi dicevano eh no di qua di là poi sei stata vittima di bullismo a scuola ad esempio mi tirava anche tu ti tirava le cartacce addosso no a me mi hanno scritto una lettera quindi vedi che non siamo così tanto differenti ok perfetto no a me mi hanno scritto una bella